Quello che qui, se veniva dall'Ave, dopo vi venivo portaduto dalla baita. Lì ho po'. È un macello, è un macello. È un problema. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ma come se ne trovo lei, io conosco. E' stata la macchina, siamo venuti a vedere. E le mutande le ho prese pulite. C'erano nella macchina, adesso sono felice. Vuoi vedere se la sua interna? Sai. Sai.